Nel mio lavoro di personal shopper immobiliare ho occasione di visitare molti appartamenti in vendita, ma solo alcuni di essi risultano davvero interessanti e di conseguenza proposti ai nostri clienti. Ti piacerebbe accompagnarmi in una delle mie visite e valutare insieme a me i pro e i contro? Oggi vorrei che mi accompagnassi a vedere un appartamento situato nel complesso Eureka, in Costa del Silenzio. Devo dire che entrando nella sala la prima impressione è stata piuttosto positiva. Mi sono ritrovata in questo grande spazio, con un bel tavolo da pranzo e un gradevole salotto, ma poi sono entrata in cucina e mi ha subito pervaso il senso di claustrofobia. Era veramente piccola e con il soffitto basso, e di certo il mobilio così scuro non aiutava a renderlo un luogo accogliente. Era stata ricavata in una specie di casetta in muratura edificata sulla superficie della terrazza e con accesso da un piccolo vano creato nel salone, vano dal quale faceva persino fatica a passare il frigorifero. Mi sono poi spostata nella camera da letto. In questo caso sono rimasta piacevolmente colpita dalle dimensioni della stanza, anche se era un po' troppo piena di mobili. In particolare non vedevo il senso di quella cassettiera messa di fianco all'armadio e che ne impediva l'apertura. Ma di questo parleremo più avanti. Il bagno, disordine a parte, aveva degli strani collegamenti idraulici ed elettrici, in parte a vista ed in parte con canaline malfatte di cui non si capivano bene l'origine e lo scopo. La terrazza era un insieme disordinato di mobiletti vari, coperture ombreggianti attaccate con le fascette, una stazionata in legno consumata dal tempo e mezza rotta e tantissimi oggetti posati un po' ovunque. In quel momento erano presenti i proprietari, marito e moglie ed una bambina, ma parlando con loro venne fuori che ci vivevano in cinque e mi domandai come potessero vivere cinque persone in un appartamento del genere. Cominciai pertanto a raccogliere informazioni dal vicinato e scoprì che un paio di anni prima i proprietari avevano aperto due vani nelle pareti, uno in camera da letto dietro la misteriosa cassettiera di cui ti avevo parlato prima ed uno dietro la doccia ed avevano, udite udite, occupato l'appartamento a fianco. Beh, improvvisamente tutti i tasselli andarono al loro posto e cominciai a capire quale fosse la situazione che avevo di fronte e che la gestione della compravendita e la successiva ristrutturazione avrebbero potuto essere un po' impegnative, per così dire. Tu l'avresti scelto per un investimento immobiliare? Mi farebbe davvero piacere se rispondessi a questa domanda lasciando un commento sotto a questo video. Per quello che mi riguarda? Sì, assolutamente sì! E se sei curioso di sapere cosa l'ho reso per me così interessante, proviamo a ridare un'occhiata insieme alle foto che abbiamo appena visto e anche ad alcuni altri aspetti. Partiamo come sempre dall'ubicazione. Il complesso Eureka si trova nella parte più ovest di Costa del Silenzio, con moltissime zone verdi che rendono molto piacevole il suo attraversamento, una bella piscina ed un parcheggio privato. Proprio di fianco troviamo un piccolo centro commerciale con negozi, bar, supermercato e farmacia e la playa della Baiena è a soli 600 metri di distanza. Inoltre è vicinissimo alla fermata dell'autobus, alla stazione dei taxi, al bellissimo parco della Garagnagna e ad un ipermercato. Insomma, c'è davvero tutto a portata di mano. Ma torniamo al nostro appartamento. Prima di tutto si sarebbe dovuta demolire la costruzione che racchiudeva la cucina claustrofobica, in modo da riportare la grande terrazza alle sue dimensioni originali e poterla sfruttare come meritava. Ovviamente la cucina andava rifatta nuova e posizionata nell'angolo dove si trovava il tavolo da pranzo. Nella camera da letto si doveva eliminare la controparete in legno posizionata dietro al letto e sostituire il mobiglio con qualcosa di più moderno. Il bagno andava completamente rifatto, le pareti di tutta la casa erano da lisciare e imbiancare e porte infissi da sistemare. Ah già, dimenticavo! Ovviamente andava anche sanata questa incredibile situazione di occupazione abusiva dell'appartamento concomitante, ricostruendo i muri laddove ora c'erano i buchi che servivano ad accesso illegale e si sarebbero dovute anche eliminare tutte le prolunghe elettriche ed idrauliche con cui si erano attivati abusivamente i servizi dell'altro immobile. Il risultato finale, però, sarebbe stato un appartamento luminoso e spazioso, perfetto sia per appartamenti turistici che residenziali. Il cliente si è ritrovato allineato con le mie considerazioni, ha deciso di comprare la proprietà e dopo il rogito ci ha incaricato di seguire i lavori di ristrutturazione e di occuparci dell'arredamento e delle decorazioni. Sei curioso di vedere come lo abbiamo trasformato? Come ti ho già detto in altri video, un appartamento messo a rendita deve suscitare emozioni e raccontare una storia, deve avere un tema, un nome, un luogo e una gamma di colori in armonia con il tema scelto ed in questo caso abbiamo deciso di chiamarlo Ibisco, per richiamare le aiuole giardini fioriti che si trovano nel complesso ed accostando al colore bianco le calde tonalità dell'arancio, che si sposavano perfettamente con il pavimento incotto, con le finte travi in legno e con il rivestimento di pietra dietro al divano, donando così all'appartamento un'anima calda ed accogliente. Per la cucina abbiamo scelto mobili bianchi con il piano in legno, un piano cottura in vetro ceramica, il forno ed un grande frigorifero congelatore. È stato posizionato un tavolo allungabile al centro della sala e creato un angolo relax con divano letto, tavolino e un bel mobile bianco con cornice in legno chiaro. La televisione montata sul supporto orientabile può essere vista sia dal divano che dalla cucina e tutte le decorazioni richiamano il tema i disco. Nella camera da letto è stato riverniciato il grande armadio a muro e tutte le pareti sono state trattate contro l'umidità e rivestite con pareti in cartongesso specifico. La testata del letto e i comodini richiamano gli stessi colori utilizzati nella zona giorno, creando una piacevole armonia generale. È stato messo un ventilatore a soffitto per raggiungere comfort nelle giornate più calde e non potevano mancare i richiami all'arancione e ai fiori tropicali. Il bagno ha richiesto un bel po' di lavoro, rifacendo completamente pavimento e rivestimenti e guarda adesso come è bello luminoso e spazioso, con il pavimento in ceramica effetto legno, la doccia walk-in con il piatto doccia effetto mosaico, i mobiletti bianchi e considera che abbiamo spostato qui anche la lavatrice che originariamente si trovava in terrazza. Ma parliamo proprio della terrazza, che senza la casetta ha cambiato davvero aspetto, con l'accogliente salottino nel quale gustare un caffè o leggere un libro, ascoltando gli uccellini cinguettare, il tavolo per mangiare all'aperto ed il barbecue per prepararsi una succulenta grigliata. La copertura ombreggiante è stata ovviamente rifatta e dove prima c'era la casetta è stato creato un tappeto di ceramica in stile rustico, che richiama lo stile del soggiorno. Se ti stai chiedendo quanto siano costati i lavori, ti accontento subito. La cifra complessiva per la ristrutturazione, per sanare la situazione abusiva, l'abbattimento del cucinotto e il ripristino della terrazza, l'arreddamento, le decorazioni e l'allestimento per mettere l'appartamento a rendita, ovvero lenzuola, asciugamani, materassi, elettrodomestici, piatti, stoviglia e via dicendo, è stata di circa 35.000 euro. La percentuale di occupazione dell'appartamento attualmente è del 90% e la redditività media è del 4,6%. Ora l'Ibisco ha davvero una sua anima capace di trasmettere emozioni. È un luogo attraente per i turisti come anche per chi vuole trascorrerci qualche mese e la sua grande e magnifica terrazza è sicuramente un plus che lo fa distaccare da altre proprietà. Magari questo appartamento non era proprio un brutto natroccolo, ma una simpatica paperetta a cui serviva un po' di fiducia per spiegare le ali e diventare cigno. Se anche tu sei già proprietario o stai acquistando un immobile che vorresti capaci di trasmettere emozioni e di darti buone rendite, contattaci alla mail che ti lascio qui sotto e collaboreremo con te per realizzare i tuoi progetti. Intanto fammi sapere se ti è piaciuto questo video con un like o dimmi con un commento cosa pensi di come abbiamo rivoluzionato l'aspetto di questo appartamento e ovviamente non dimenticarti di iscriverti al canale per vedere altre anatroccoli spiccare il volo. Bienvenido a Tenerife!